Si chiama Kakuma Got Talent ed è il primo talent show africano che si tiene in uno dei campi rifugiati più grandi del Kenya in Africa, quello della cittadina di Kakuma che si trova a 100 km dal confine con il sud del Sudan. Il talent show, patrocinato dall'UNHCR, agenziamo per i rifugiati, è giunto alla quinta edizione nella quale hanno partecipato più di 700 rifugiati. Tutti i giovani provenienti da paesi funesti o meglio colpiti dalla guerra civile come la Somalia, l'Etiopia, il Congo e il sud del Sudan. In particolare le discipline nelle quali vanno a sfidarsi i concorrenti di questo talent show sono i canti etnici, il rap, la comicità, la fotografia, la moda e la danza tribale. Insomma un talent show di tipo straordinario in cui si ha a che fare con tutta quanta la bellezza e il fascino di una cultura che è quella africana che può essere considerata di grande bellezza e di grande fascino. L'intensità infatti del culto come della cultura africana è qualcosa di infinito. Un saluto caro a voi tutti, iscrivetevi e al prossimo video da narratore italiano.